Io chiudo gli occhi, Paolo Tagliavento, e per me lei è Repubblica, direi Gabriele Romagnoli, che poi è stato direttore di Rai Sport, adesso è tornato e racconta l'altra professione, no? Parrucchiere, che immagino non faccia più o chissà. Sono già tanto tempo che non faccio più questa attività. E di Terni? Assolutamente. Paese o frazione? No, no, nativo di Terni. La bronzatura mi ricorda Graziano Cesari, eh? Io penso a, vabbè, montare è troppo banale. Ci fosse stato la tecnologia, tutto quello che sappiamo, bastavano pochi istanti. Sì, ma ormai sono cose dette, ridette, ridette, tempo, è ovvio, con la tecnologia sarebbe bastato niente. Invece che ha fatto il suo percorso da grande fischietto ad arbitro, uno è scomparso ed era il Cesena, mi aiuti lei? Solo questo, addetti all'arbitro c'è Romeo che è passato all'Inter, ma proprio dirigente, vicepresidente, nessuno. Non me ne vengo. C'è stato Beschin che è scomparso, che fu al Cosenza, un suo collega al Cesena, però diciamo, dalla Biala come vicepresidente c'è solo lei. Non ho un bagaglio per poterle dire. Ovviamente Paolo fa solo questo. Ovviamente. Voto a questa di esperienze e all'altra? Sono due bellissime esperienze, una estremamente formativa e questa lo è altrettanto. Il punto più alto da... Mi saluta che devo scappare. A terni già stanotte. Grazie.